Viaggia nel tempo alla scoperta dei giganti della Terra estinti milioni di anni fa. E voi vi aspettavate di vedere qualcosa inerente all'inizio dell'anno, magari un video dedicato ai bigliettini di auguri, e invece no. Pensare di realizzare a mano bigliettini di auguri con un dinosauro e poi scriverci buon anno è la cosa più assurda e ridicola che si possa immaginare. Iniziamo bene l'anno!